Come si potrebbe dire che l'online rappresenta un po' una pietra miliare nel mondo della distribuzione, che si potrebbe dire il primo e dopo l'online, perché l'online ha rivoluzionato e ha rotto un paradigma che fondamentalmente resisteva da, potremmo dire, 3.000 anni, in cui in un modo o in un altro se un cliente voleva comprare qualcosa doveva necessariamente, diciamo, precarsi in un posto fisico. Poteva essere mercato rionale, mercato all'aperto, supermercato, ipermercato, superstore, però l'ultimo miglio lo doveva fare. Chiaro che arrivando all'online, in cui la merce può arrivare direttamente a casa, cosa che prima era privilegio solo di pochissime famiglie, diciamo case reali, eccetera, è chiaro che questo cambia completamente lo scenario. Alla luce di questo, quindi, noi dobbiamo provare a immaginare come sarà l'evoluzione. Alla domanda come saranno i negozi nel futuro, in maniera molto semplice potrei dire che prima di tutto ce ne saranno di meno, che una parte di merce arriverà direttamente a casa, saranno più piccoli più o meno per lo stesso motivo, saranno probabilmente più esperienziali, perché, diciamo, uno dei motivi non andrà solo per comprare, devi dare un motivo diverso, quindi probabilmente saranno più ibridi, nel senso che fanno un po' tutte le stesse cose, fanno anche cose diverse. Ha iniziato Feltrinelli che faceva anche il caffè, tanto per dare idea. Saranno sicuramente molto più impulsati sul fresco, perché il fresco è un po' più difficile e complicato da portarlo a casa, quindi vai lì per fare un'esperienza, ma fondamentalmente, secondo me, avranno due caratteristiche fondamentali. Saranno omni-channel, nel senso che saranno dei posti dove io, cliente, posso andare lì a comprare qualcosa, ma posso andare anche a scegliere qualcosa e poi me lo faccio portare direttamente a casa, quindi faranno un po' tutte e due le cose. e saranno ancora di più monomarca, nel senso che probabilmente il negozio, come dire, io andrò in quel punto vendita, quindi per ampliare il raggio di azione, ma lo sta vedendo, diciamo, perché poi tutti quanti in un modo in un altro, e voi girate per le città, vedete che la maggior parte dei negozi sono monomarca anche aziende, diciamo, di produzione che si mettono a vendere direttamente.